Dicono che tutto è scritto e non si può cambiare niente. Sono me e sono alfano. Io voglio cambiare tutto. Madame Rosa ha iniziato a tenere i bambini delle altre puttane. Ciao! Rosa, ho bisogno di un favore. Mammo, l'ho presa in affidio subito dopo la tragedia. Io non ce la faccio più, sono vecchio. Due mesi, non un giorno di più. Finché vivi qua, le regole le faccio io. Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo... un buco di merda. Basta! Non lo faccio andare, sai? Non ci stacola la testa. Rosa è un bambino. Quella non è normale. È bacato dentro. Però... Quando tu finisci le parole Sto qui Avevo la solita. Sto qui Era la prima volta che qualcuno mi trattavo come una persona degna di fiducia. Che destino è il tuo E' proprio quando non ci credi più che succedono le cose belle. Devi darmi una mano perché da solo non ce la faccio. Se mi vuoi Sono qui L'umanità è solo una virgola. È il grande libro della vita. Ma quando a Madame Rosalie guardavo con i suoi grandi occhi gialli... Ma se vuoi Non era una virgola. Se mi vuoi Sono qui Ma il grande libro, tutto intero. Nessuno ti vede Io sì Ma il grande libro, tutto intero.